Ciao bestie e bentornati su Step by Step. In questo video trattiamo gli esercizi sull'energia, livello facile medio, quindi dall'1 al 4. Se vuoi gli esercizi un po' più avanzati, trovi il link alla seconda parte del video, qua sopra in alto a destra o sotto in descrizione. Se invece ti serve un bel ripasso di teoria, c'è il nostro fantastico video di teoria, il link è sempre sotto in descrizione. Ricordati di iscriverti al canale. E allora, pronti via! Una gallina di 2,5 kg sta correndo alla velocità di 0,8 m al secondo. Prima richiesta dell'esercizio, calcola l'energia cinetica della gallina. Resolviamo subito, per calcolarci l'energia cinetica utilizziamo la formula 1,5 m velocità della gallina al quadrato. Qua si tratta soltanto di buttarci dentro i numeri e fare i conti, e quindi otteniamo un'energia di 0,8 J. La seconda richiesta dell'esercizio è la gallina spicca un balzo e arriva a 1,5 m da terra. Calcola quindi la sua energia potenziale gravitazionale nel punto più alto del salto, quindi quando si trova a 1,5 m da terra. Anche qua andiamo di formula brutalissima. Dobbiamo utilizzare l'energia potenziale Mgy. Y è la posizione a cui si trova la gallina. Quindi qua di nuovo facciamo i conti buttando dentro i dati, visto che la gallina è a 1,5 m da terra. Usiamo Y, 1,5 m e otteniamo un'energia potenziale di 37 J. Attenzione che questa energia che ho ricavato è rispetto al terreno, cioè io ho preso come riferimento, come altezza 0, il terreno. Non me l'ha imposto nessuno, però per convenzione se si può di solito si utilizza Y uguale a 0 all'altezza terreno. Richiesta C. Durante il salto, quanto lavoro la forza peso ha compiuto sulla gallina e quanto lavoro ha compiuto invece la gallina per sollevarsi. Va boh, quindi, visto che abbiamo a che fare con la forza peso nello specifico e il peso è una forza conservativa, possiamo utilizzare questa formula bellissima, cioè il lavoro del peso è uguale al meno ΔU, cioè la variazione di energia potenziale. Questa formula qua vale per la forza peso, per la forza elastica, in generale per le forze conservative. In generale il lavoro non si può calcolare sempre così. Però qua siamo fortunati, quindi posso utilizzare il lavoro del peso uguale a meno ΔU, che sarebbe U finale meno U iniziale. Se togliamo quella parentesile e cambiamo i segni, otteniamo che il lavoro del peso è meno U finale più U iniziale. Cosa intendiamo con U finale e U iniziale? Sono l'energia potenziale alla fine, cioè inteso quando la gallina è nel punto più alto, quella iniziale quando è ancora a terra e deve saltare. Utilizzo quindi la formula dell'energia potenziale del peso, Mgy, come abbiamo fatto nel punto B, e quindi ho meno Mgy finale più Mgy iniziale, qua ci butto dentro i dati e ottengo un lavoro di meno 37 J. Ha senso che il lavoro sia negativo, perché il lavoro della forza peso è quello che ha bloccato il moto della gallina, cioè lei ha saltato. Che cos'è che le ha permesso di fermarsi e poi tornare giù? Il lavoro del peso. Poi c'è la seconda richiesta, che è di calcolarsi il lavoro della gallina. Ora, visto che la gallina è partita da terra e è saltata ed è arrivata in cima, lei ha fatto un lavoro uguale a quello della forza peso, quindi meno quello della forza peso perché la gallina si è spinta in avanti, quindi ha fatto un lavoro positivo, quindi il lavoro della gallina è di 37 J. L'ultima richiesta dell'esercizio è di calcolare il lavoro della forza peso, ma in una situazione diversa, ovvero nel caso in cui la gallina torna a terra e continua a muoversi in linea retta per una distanza di 4 metri. Ecco, qua dobbiamo fare attenzione a una cosa. Volendo posso usare di nuovo la formula lavoro del peso uguale meno a ΔU, però vediamo un attimo di utilizzare la formula generale del lavoro, ovvero forza per spostamento per coseno dell'angolo α. Chi è l'angolo α? α è l'angolo che c'è tra lo spostamento, quindi lo spostamento orizzontale di 4 metri, e la forza che stiamo considerando, cioè la forza peso. In questo caso α, quindi, a 90 gradi, perché lo spostamento orizzontale e il peso tira giù in verticale verso il basso. Questo implica che quando faccio il conto devo fare forza peso, quindi M per G per il ΔS che è lo spostamento, per il coseno di 90 gradi, che però vale 0. E quindi il lavoro del peso vale 0 in questo caso, che è soltanto un modo per dire che durante lo spostamento orizzontale la forza peso non ha né accelerato né rallentato la gallina. Esercizio numero 2. Uno sciatore si lancia su per un pendio alla velocità di 12 metri al secondo. Trascuriamo gli attriti. Le richieste sono di calcolare la sua velocità dopo che è salito di 2 metri e di dire se lo sciatore è in grado di arrivare a un'altezza di 10 metri rispetto al punto di partenza. Questo è un esercizio in cui utilizziamo la formula più bella dell'universo, che è la conservazione dell'energia. Scritta così come l'ho scritta io adesso, qualcuno la chiama anche teorema del lavoro-energia, fondamentalmente è la stessa cosa. Che cosa sono ΔK, ΔU e LNC? ΔK è la variazione di energia cinetica del corpo, in questo caso dell'usciatore. ΔU è la variazione della sua energia potenziale, in questo caso, visto che si muove in verticale, sarà l'energia potenziale della forza peso. LNC è il lavoro delle forze non conservative. Se nel problema ci sono attriti, spinte, tensioni, forze strane che non sono il peso, la forza elastica, quella vincolare, fondamentalmente qua dentro ci dobbiamo ficcare il contributo di quelle forze. Visto che c'è tra scuola e gli attriti del lavoro non conservativo, non ce ne freghiamo. Partiamo dalla energia cinetica. ΔK, come lo calcolo, è un mezzo M velocità finale al quadrato meno un mezzo massa velocità iniziale al quadrato. Ricordo che Δ in fisica vuol dire finale meno iniziale. Per quanto riguarda l'energia potenziale, visto che a che fare con quella gravitazionale della forza peso, avrò quella finale che è MgY finale, Y nell'altezza, così trova il tizio, meno MgY iniziale. Il lavoro, come vi dicevo, è uguale a zero perché non ho forze dissipative, cioè non conservative, attriti, spinte, tensioni, roba del genere. Ora, per riuscire a fare i conti in questo esercizio, è importante che piazziamo un sistema di riferimento, cioè dobbiamo scegliere a che altezza piazzare Y uguale a zero. Visto che non ci dice niente l'esercizio per aiutarci, io piazzo Y uguale a zero nel presunto punto di partenza. In questo modo io posso subito togliere MgY iniziale dall'equazione perché Y iniziale vale zero. Non si tratta di fare altro adesso che isolare la velocità finale, visto che quella è l'incognita. Lui ci ha chiesto, come prima richiesta, la velocità dopo essere assalita di 2 metri, quindi mi serve la velocità finale. Quindi sposto dall'altra parte l'energia cinetica iniziale e la potenziale che è rimasta. Qua dobbiamo moltiplicare tutto quanto per 2 e dividere per la massa, così mi resta Vf quadro a sinistra. Estrago la radice quadrata, quindi Vf è la radice di V quadro meno 2gy finale. Arrivato a questo punto butto dentro i numeri, faccio i conti e mi esce una velocità di circa 10 metri al secondo. E la prima richiesta l'abbiamo sistemata. Vediamo la seconda, ma tanto utilizzeremo sempre e comunque la conservazione dell'energia. Quindi ΔK più ΔU uguale a lavoro non conservativo e la partenza è uguale a prima, cioè mi scrivo il ΔK come un mezzo Mvf quadro meno un mezzo Mv quadro. Mi scrivo il ΔU, il lavoro non conservativo è sempre zero. Che cosa cambia però rispetto al punto A? Cambia che adesso lui ci ha chiesto se riesce ad arrivare a 10 metri d'altezza. Che significa? Significa che io adesso vado a vedere in che punto lo sciatore si ferma, cioè quanto in alto riesce ad arrivare quando si ferma, e vedo se quell'altezza è più alta o più bassa di 10 metri. Se riesce ad arrivare a più di 10 metri, vuol dire che a 10 metri comunque c'è passato. Se invece non arriva a 10 metri d'altezza, non ci arriva il buonanotte al secchio. Quindi tolgo Vf dall'equazione perché per me quella roba vale zero e vado a isolarmi dall'equazione l'altezza finale. Quindi Y finale adesso diventa la mia incognita. Di nuovo divido per mg, cioè voglio isolare l'incognita, quindi divido per la massa, divido per l'accelerazione di gravità, e vado semplicemente a farmi conti. Y iniziale di nuovo vale zero, perché non ho cambiato il sistema di riferimento, non è cambiato niente. La velocità iniziale la conosco e ottengo quindi un'altezza finale di 7,3 metri, che è più bassa dei 10 metri che mi ha chiesto lui. E quindi la risposta è no, lo sciatore non raggiunge i 10 metri, ma si ferma prima. Esercizio numero 3. Un tuffatore di massa a 60 kg si lancia da fermo da un trampolino alto 5 metri. Trascura l'attrito con l'aria, come sempre d'altronde. Le tre richieste sono di calcolare la velocità con cui il tuffatore entra in acqua, di calcolare il lavoro compiuto dal peso durante la caduta, e di calcolare la potenza media della forza peso durante la caduta. Va bene, partiamo con la prima richiesta e utilizziamo la conservazione dell'energia, o che lo vogliate chiamare teorema del lavoro-energia, è la stessa roba. ΔK più ΔU uguale LNC. ΔK è la variazione d'energia cinetica del tuffatore, ΔU, la variazione della sua energia potenziale, in questo caso sarà quella della forza peso, visto che si muove in verticale, non ci sono molle, non ci sono cose strane. LNC è il lavoro delle forze non conservative, attriti, spinte, tensioni e quelle robe lì. Inserisco adesso le formule. Quindi ΔK è un mezzo m di F quadro, meno un mezzo m di quadro. La energia potenziale invece, quella della forza peso, Mg altezza finale, meno Mg altezza iniziale, quindi Y per me è l'altezza, il punto in verticale a cui si trova. Il lavoro non conservative è zero, perché abbiamo tolto tutte le altre di tutte le spinte, non ci sono cose strane. Qui occhio a una roba, la velocità iniziale è zero, perché il testo mi dice esplicitamente che il tuffatore parte da fermo. Non so che quando uno si immagina, un tizio che si tuffa, non si immagina propriamente una velocità uguale a zero, ma in questo esercizio seguiamo il test e quindi facciamo che è così. Devo adesso piazzare il mio sistema di riferimento, cioè devo scegliere a che altezza mettere la Y uguale a zero. Non c'è una scelta obbligatoria. Io la piazzo all'altezza dell'acqua, quindi alla fine della caduta, per me lì è Y uguale a zero. In questo modo nell'equazione la Y finale è zero e mi tolgo un altro tocco dalle scatole. A questo punto si tratta soltanto di isolare l'incontra, che è la velocità finale. Quindi sposto Mgy iniziale a destra, qua moltiplico per 2 e divido per la massa, in questo modo mi rimane soltanto Vf quadro, ed estrago la radice. Quindi Vf è la radice di 2gy iniziale. Qua si tratta di fare i conti e buttate dentro i dati. La Y iniziale sono 5 metri e quindi ottengo una velocità finale di circa 9,9 metri al secondo. E la prima richiesta è sistemata. Richiesta B. Il lavoro della forza peso. Visto che la forza peso è una forza conservativa, non ce ne sono tante in giro nel mondo, sono soltanto la forza peso, barra quella di gravità, la forza elastica e la forza elettrostatica, visto che è una forza conservativa, posso utilizzare, come formula del lavoro, meno ΔU. Questa roba vale solo per le forze conservative. meno ΔU, cioè come meno la variazione dell'energia potenziale, cioè meno, aperta tonda, Mgy finale meno Mgy iniziale. Io so già che la Y finale vale 0, l'abbiamo detto prima nel punto A, quindi il lavoro della forza peso è semplicemente uguale a Mgy iniziale. Qua butto dentro il numero, mi faccio un attimo di conti, ottengo circa 2,9 per 10 alla terza J. questo non era l'unico modo di fare l'esercizio, perché comunque avrei potuto utilizzare la formula del lavoro come prodotto scalare tra forza e spostamento. Questa qua è un po' più generale, vediamo che comunque c'è lo stesso risultato. Fare forza per spostamento come prodotto scalare vuol dire fare forza peso per lo spostamento per il coseno dell'angolo α. Che cos'è l'angolo α? È l'angolo che si pone tra la forza e lo spostamento, visto che la forza peso tira in giù e lo spostamento anche lui va verso il basso, in questo caso l'angolo α è semplicemente 0, che non vuol dire che viene tutto 0, perché coseno di 0 vale 1. Posso quindi fare i conti, tanto le quantità le conosco tutte, la massa la so, al giro colo, lo scodalta S sono sempre 5 metri, coseno di 0 vale 1, e mi esce un'altra volta, manco a dirlo, 2,9 per 10 alla terza J. E ora richiesta C, calcolare la potenza media della forza peso. La potenza si calcola come la variazione di energia, in questo caso quindi il lavoro, compiuto dalla forza peso nell'intervallo di tempo. Ora, che cosa sono L peso e delta T? L peso l'abbiamo calcolato al punto precedente, sono 2,9 per 10 alla terza J, quindi quello lo so. Delta T è il tempo di caduta e me lo devo ricavare. Come faccio? Devo utilizzare il moto uniformemente accelerato, perché il moto di caduta del tuffatore è pur sempre un moto accelerato. Comincio quindi scrivendomi la legge oraria del moto accelerato, quindi Y finale uguale Y iniziale, più V0 per delta T, meno mezzo G delta T quadro. So che siete abituati di solito a vederlo come S finale uguale S iniziale, eccetera, eccetera. Visto che il moto è verticale, ho preferito utilizzare le Y, visto che le abbiamo usate così finora, ma non cambia niente. Posso iniziare dicendo che l'altezza finale vale 0, perché arriva all'altezza 0 per il sistema di riferimento che abbiamo scelto, e V0, che sarebbe la velocità iniziale, vale pure l'E0. La incognita che ho qua dentro, quindi, è il delta T, perché G la conosco e Y iniziale la conosco. Quindi sposto un mezzo G delta T quadro dall'altra parte dell'equazione, a questo punto moltiplico per 2 e divido per G, quindi ottengo delta T quadro, estrago la radice e scopro che delta T è la radice di 2YI fratto G. Lo so che qua vi viene l'istinto immediato di fare i conti e scoprire quanto vale delta T, ma noi siamo più furbi e quindi sostituiamo direttamente la formula del delta T all'interno della potenza media, che era lavoro del peso fratto delta T, quindi lavoro del peso fratto radice di 2Y iniziale su G. Il lavoro del peso, di nuovo l'abbiamo già calcolato, M-G-Y iniziale, arrivato a questo punto che ho tutte le lettere con tutte le robe che conosco, posso buttare dentro i dati e tirare fuori il risultato che è 2,9 per 10 alla terza Watt. Esercizio numero 4. Un blocco di massa 0-800 kg comprime di 20 cm una molla di costante elastica a 500 N su metro. La molla viene rilasciata e il blocco viene lanciato su per un piano inclinato privo di attrito, lungo 1,6 metri e inclinato di 45 gradi. La domanda è se il blocco riesce ad arrivare in cima al piano inclinato, se sì, con che velocità ci arriva, se no, invece, a che altezza si ferma lungo il piano inclinato. Prima roba fondamentalissima, dobbiamo stare all'occhio in questo esercizio all'unità di misura perché c'è un delta X della molla in centimetri che ci fa schifo, lo convertiamo subito in metri, quindi 0,2. Questo è un esercizio che si risolve con l'energia. Come faccio a saperlo, a parte il fatto che il video è sugli esercizi dell'energia, ho un corpo che si muove in verticale, cioè lungo il piano inclinato, e che interagisce con una molla. Non mi viene richiesto in nessun modo il tempo, questo è un indizio fondamentale, quindi di sicuro utilizzo l'energia. E quindi parto con la formula potentissima, universale, della conservazione dell'energia o teorema del lavoro-energia, chiamatelo come volete. Quindi, variazione di energia cinetica delta K più variazione di energia potenziale delta U uguale al lavoro delle forze non conservative. Questo esercizio è un po' particolare perché dobbiamo analizzare in modo più attento il delta U. Visto che c'è una molla, ma in contemporanea il corpo si muove anche in verticale, cioè c'è il pezzo di piano inclinato, io avrò due delta U in questo caso, perché ho sia il delta U della forza peso sia il delta U della forza elastica, quindi della molla, e devo utilizzarli entrambi. Come diventa quindi la legge di conservazione dell'energia in questo caso? Avrò la parte della cinetica, quindi un mezzo MVF quadro meno un mezzo MVI quadro. Poi ho la parte del delta U del peso, MG altezza finale meno MG altezza iniziale, e poi ho la parte della potenziale elastica, quindi un mezzo K delta X finale quadro meno un mezzo K delta X iniziale quadro. Dall'altra parte c'è il lavoro non conservativo uguale a zero perché tanto non ci sono attriti, non ci sono spinte dall'esterno, non ci sono tensioni di funi, e quindi quella roba lì in questo caso non la consideriamo. Per risolvere questo esercizio è fondamentale che abbiamo bene in testa quali sono l'istante finale e l'istante iniziale da considerare per inserire poi date all'interno. L'istante iniziale è facile, cioè quello che ci viene rappresentato già nel disegno, quindi la molla compressa, il blocco fermo che deve ancora partire. Lo stato finale ma in realtà non lo sappiamo perché noi non sappiamo se il blocco arriva in cima oppure no, quindi potrebbe fermarsi lungo il piano inclinato oppure potrebbe arrivare in cima stannosi ancora muovendo. Come faccio a sapere a prescindere qual è? Non lo so, semplicemente scelgo io uno dei due casi in cui dico facciamo finta che è così e poi controllo con i conti se quella roba è sensata oppure no. Se è sensata allora il blocco fa quello che ho pensato altrimenti fa il contrario. io quindi giusto così a ispirazione scelgo l'opzione 1 cioè per me lo stato finale sarà il blocco che è salito lungo il piano inclinato non è riuscito ad arrivare in cima e quindi si è fermato da qualche parte lungo la strada. Ripeto magari non è così lo scopriamo però facendo i conti come punto di partenza va benissimo. Iniziamo quindi dicendo che le due velocità sono 0 quella finale e quella iniziale quella iniziale perché il blocco parte fermo quella finale perché ho scelto io di considerare il momento in cui il blocco si ferma. Allo stesso modo posso togliermi la altezza iniziale quindi y iniziale vale 0 perché il blocco parte dal punto più basso e anche il delta x finale che cos'è quella roba lì? Quella è la compressione della molla all'istante finale. Alla fine la molla il blocco manco lo tocca non è compressa né allungata in nessun modo se è per quello e di conseguenza quella roba non ce l'ho quella iniziale ce l'ho perché iniziale la molla è effettivamente compressa. Ok l'unica incognita qua dentro quindi chi è? È la y finale cioè l'altezza a cui è arrivato il blocco fermandosi lungo il piano inclinato. Io adesso quindi mi calcolo sto y finale e poi lo confronterò con l'altezza del piano. Se mi esce che l'altezza a cui arriva il blocco è più bassa dell'altezza del piano vuol dire che effettivamente non è riuscito ad arrivare in cima e sei fermato prima. Se mi esce un'altezza più alta vuol dire che invece il blocco è arrivato oltre il piano inclinato e quindi ho sbagliato a scegliere lo stato finale però non è un problema. Quindi iniziamo a fare i conti mi isolo y finale spostando un mezzo k delta x iniziale al quadrato a destra divido per m e g in modo da avere solo y finale e a questo punto butto dentro i numeri e faccio i conti. Mi esce 1,27 metri. Tutto molto bello ma senza l'altezza del piano non combiniamo nulla. Quindi vado a calcolarmi l'altezza del piano visto che so quanto è lungo e conosco l'angolo utilizzo un po' di trigonometria spicciola segni e coseni l'altezza del piano è la lunghezza per il seno di 45 gradi dell'angolo. Mi faccio il conto di questa cosa qua e mi esce 1,13 metri. Cosa posso dedurre? L'altezza del piano è 1,13 mentre il blocco con l'energia che c'era all'inizio è in grado di arrivare fino ad un'altezza di 1,27 quindi io so per certo che il blocco riesce ad arrivare in cima al piano inclinato che vuol dire che ho sbagliato a scegliere lo stato finale in realtà devo scegliere l'altro è una tragedia? No, non è un problema semplicemente adesso dobbiamo rifare un attimo il conto per poter scoprire qual è la velocità finale però so già che in cima al piano perlomeno ci arriva quindi riparto devo resettare un attimo cambiando il mio stato finale la formula è sempre la stessa e devo ripartire reinserendo i vari pezzi tolgo di nuovo la velocità iniziale perché tanto vale 0 tolgo l'altezza iniziale perché tanto vale sempre 0 tolgo il delta x finale perché tanto vale 0 quello che invece rimane diverso da prima è la velocità finale questa volta quella non è 0 perché lo stato finale adesso è il blocco arrivato in cima al piano chi è ora in incognita è proprio la velocità finale quindi me la isolo sposto i pezzi del mezzo k delta x iniziale quadro e m g y finale a destra qui moltiplico per 2 e divido per la massa e vado a estrarre la radice quindi la velocità finale sarà la radice di k su m delta x iniziale quadro meno 2 g y finale qua si tratta soltanto di fare i conti a questo punto faccio il calcolone e mi esce una velocità finale di 1,67 metri al secondo notate che la y finale questa volta la sapevo non era l'incognita è utilizzato come y finale l'altezza del piano non quella che ho ricavato prima quell'1,a qualcosa in più perché adesso io so che il blocco arriva in cima al piano quindi arriva all'altezza di 1,13 l'altezza del piano